L'importante operazione di polizia giudiziale ha portato a termine nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Novara, che ha avuto il suo piloco con l'arrezzo di tre individui a vario titolo responsabili dei reati di falsificazione di targhe, truffa e furto in danno di persone anziane, nonché di ricettazione di monioni d'oro, gioielli con pietra preziosa e denaro sottratte a questi ultimi per un valore complessivo di circa 70.000 euro. I tre su un'auto con targhe false sono stati inseguiti dalle agenti della polizia stradale sino alla barriera autostradale di Rondissone, ove con l'ausilio di ulteriore personale della sottosezione autostradale di Settimo Torinese, nonostante il tentativo di darsi alla fuga, sono stati arrestati. Si tratta di tre malviventi che in quel momento si trovavano a bordo, tutti italiani, residenti nel Canavese. Nel corso della successiva perquisizione sono state ritrovate all'interno dell'autovettura numerosi oggetti preziosi e denaro, che si è accertato successivamente essere provento di numerose truffe, perpetrate nei confronti di persone anziane, raggirate nello specifico anche mediante l'esibizione di falsi tesserini di riconoscimento appartenenti all'arma dei carabinieri, ovvero qualificandosi come impiegati del comune che dovevano svolgere sopralluoghi in abitazione. Inoltre i malviventi utilizzavano diverse targhe clonate già predisposte con caratteri affanumerici diversi, applicate con supporto adesivo di volta e in volta il veicolo utilizzato al fine di non renderlo identificabile. Per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere ad Ivrea. Infine, con particolare stupore, le agenti hanno ritrovato nel bagagliaio del veicolo anche una cagnolina che li guardava con aria stupita e spaventata. Tramite il microchip di riconoscimento, a seguito dell'intervento di personale veterinario, è stata quindi subito identificata anche la piccola briciola, che rubata nell'ultimo ride, già nel pomeriggio, ha potuto essere riconsegnata ai legittimi proprietari. Grazie per la visione!